e benvenuti a questo nuovo gameplay di calduty monofor 2 so che sul mio video di 50 iscritti c'era monofor 3 ma il fatto che qualche giorno dopo ho comprato 5 euro monofor 2 e quindi ho deciso di fare il 2 e poi il terzo quindi tutti voi che avete votato sul video non avete votato il terzo bene ragazzi bene cominciamo questo nuovo gameplay e buona visione il nuovo è arrivato signor ma chiediamolo di nome a esse Nicolai è in pericolo ci prendiamo cura il nostro sangue sulle loro mani il nostro sangue è in pericolo il nostro sangue è in pericolo Più le cose cambiano, più rimangono uguali. I confini cambiano, nuovi giocatori entrano in campo, ma il potere trova sempre il suo posto. Abbiamo combattuto e sofferto con i russi. È chiaro che ci avrebbero odiato. La storia è scritta dai vincitori, ed è come qui a pensare di aver vinto. Non appena un nemico viene abbattuto, ecco che al suo posto ne arriva uno peggiore. Cambiano i luoghi, la logica, l'obiettivo. I nemici di ieri sono le reclute di oggi. Devono essere addestrati e pregare che per questo non decidano poi di odiarti. Torno la stessa merda. Lei sa cosa cerca il Sargente Foley. Tenga gli occhi aperti. Oggi abbiamo un nuovo gruppo al pozzo. Ne invierò i migliori. Cominciamo. Benvenuti a Premi il Grilletto 101. Il soldato Allen mostrerà a voi del posto il funzionamento di queste armi. Senza offesa, ma per me molti di voi sparano senza mirare e sventagliano solo proiettili. Così non colpirete nulla e farete sempre la figura dei cretili. Soldato Allen, fagli vedere quello che intendo. Prendi l'arma sul tavolo e spara i bersagli dietro di te. Ok. Sento cosa incambevo. Ha sparso proiettili 1. Dovete colpire il bersaglio. Tirando con Taufera da una posizione stabile. Sento da Pauver. Mostra ai nostri amici come i ranger colpiscono il bersaglio. Accomacciati. Poi mirare i bersagli. Prendi la mira e attiva e disattiva la mira per cambiare il bersaglio. Prego soldato. Se il bersaglio è vicino a dove stai mirando, puoi agganciarlo rapidamente grazie al mirino metallico. soldato Allen, prendi la mira per cambiare il bersaglio. Mentre le persone che non si è vicino a dove stai mirando, puoi agganciarlo. Per il suo nome, puoi agganciarlo. Prendi la mira e attivano il bersaglio. Prendi la mira. Prendi la mira. Prendi la mira e attivano il bersaglio. solo quattro io sì ah lui gioco a basket eh non ce l'è fatta vediamo lui come c'è la cava eh bravo questo poi invece sta bollendo c'è che cosa, forse è una birra vabbè andiamo all'apporcio eccomi qua eh soldato è tornato al corso Shepard seleziona un tiratore della nostra unità per una versione specifica comunque è lassù che c'è eh mi ha preso ok prova a passare al fucile Shepard è quello in mezzo ottimo passa di nuovo alla pistola hai visto quanto poco ci hai messo passare la pistola è sempre più veloce che ricaricare torridi e vedi di non mancare il bersaglio Shepard sarà a guardare e i tiratori migliori saranno aggregati alla prima riapri che iniziamo non sparare in quel modo usa il minuto metallico aria libera entra nell'edificio sulle scale aria libera salta giù ultima muovaci muovaci corri verso l'uscita il terzo scorre ho visto di peggio ma c'è da lavorarci vai di sopra e raggiungi il tuo timo torna indietro e ripeti il percorso no grazie vado bene andiamo al ponte abbasso un po' il volume noi siamo la forza militare più potente nella storia dell'umanità ogni guerra è la nostra guerra perché quello che succede qui ha conseguenze laggiù è semplicemente inevitabile imparare a utilizzare gli strumenti della guerra moderna è ciò che separa la prosperità del vostro popolo dal suo sterminio non possiamo darvi la libertà possiamo però insegnarvi come conquistarla e questo amici miei vale molto più di un'intera base di acciaio avere il bastone più lungo ha la sua importanza ma conta molto di più l'abilità di chi lo impugna questo è il tempo degli eroi il tempo per le leggende la storia è scritta dai vincitori ora mettiamoci al lavoro attaccatevi questo attaccatevi questo attaccatevi questo tempo d'arrivo da 1 a 5 minuti direzione 3 Sierra non ovest con due J-DAM e due ARO passo in attesa attaccatevi questo attaccatevi questo Perfetto, hanno abbassato il ponte, dai inserite, bravi, dai muoviti o ti sparo il culo. Eccomi, eccomi, bella, sono una mitraglia, trice! Eeeh, qual'è l'edificio signore? Quello alto avrei avuto. Cos'è questo di me che hai armato? Ehi, qual'è? Quello a sinistra e quello a destra? Quello a sinistra. Ehi, non è un pericolo ravvicinato per la da sport. Bella! Il palazzo sta affondando. Avanti! C'è un po' di polverone. Per un po' non si vede da nulla, per un po' fino. Per un po' di polverone. Ma ecco, è no, è no visibile. Per un po' di polverone. Per un po' di polverone. Vai l'alto! Poverino! Ispezione. Tre contatti. Alcune ore 12. Probabilmente militiati. Armati. Negativo. Si osservano. Scommetto che ci stavano cercando. Non per questo possiamo sparare. Liberi! Liberi! Non vedo nulla! Fuoco! Fuoco! Peccatevi questo! Smaiglietti! Si attaccano dalle finestre E no, solo da lì, eh Facca di qua i fatti Con i finimenti Il maledetto camion Perfetto Guarda, si compra Cavolo, non l'avevo visto Ormai che sono qua da vivo A pensare Tutti vi faccio fuori Vedo la scuola Vendo il bazooka Anche va Muori Merda Corso Ora si Ma che mi stava beccando Tutti arriviamo mangiati Ma, strano Qua Bene Quasi sono neanche accorti Ah, ora si Che buco no No eh Ora buonica Ja Cucu Eccolo, devi fregarmi Qual è l'aula? Boh Ma quel qua Tutti i belli di gruppo Lo aiuto a grata Maledetti Eh no Eccolo il cavo che vi faccio ammazzare così facilmente Vabbè quello che ho fatto che io sto passando ma meglio così Ah eccoli qua I rinforzi Il punto di sopporto Aiuti in generale Beh ragazzi Questo primo episodio di Eccolo tutti Monofort 2 finisce qui Ascoltiamo e alla prossima Ciao Allora come sto? Sembri uno dei cattivi Perfetto per la tua missione Makaro fa il premio E' un premio E' un pazzo assassino Una puttana pronta a darsi a chi offre di più Tu ricorda la tua nuova identità E salverà la vita Benvenuto alla 141 Il gruppo dei migliori guerrieri del pianeta E' un onore signore Quando conoscerò il resto della spalla Sono in missione Stanno recuperando un modulo ACS caduto Oltre le linee nemiche Sono a mollo? Direi piuttosto surgelati in questo momento